Buonasera a tutti, ben trovati. Prima di cominciare la lezione chiediamo come di solito di mettere qualche moneta in Zedakah, anche a casa. Stasera abbiamo due storie molto interessanti. Stasera prima di tutto noi studieremo la parasha di Korach e ricordiamo anche che in questo istante è il 3 di Tammuz, oggi è il 3 del mese di Tammuz, che è il giorno dove anni fa, 29 anni fa, abbiamo fisicamente smesso di poter vedere il Rebbe, ma sappiamo che i Tzaddikim rimangono sempre vivi nel mondo. Un Tzaddik non ha l'idea della mortalità, perché i Tzaddikim sono sempre vivi, così come Jacopo non è morto, i nostri padri sono sempre vivi, perciò i Tzaddikim, che sono le guide spirituali del popolo, anche se fisicamente non ci sono più, non li vediamo più, ma continuano a essere vivi in mezzo a noi, continuano a dare ispirazione per tutto quello che noi facciamo, specialmente come il Rebbe era così vicino ad ognuno di noi, è diffuso, è ebraismo in tutto il mondo, perciò lui è sicuramente vicino a noi sempre e non lascia mai il suo grege. Volevo raccontare, appunto, e cade a pennello questa storia qua che vi racconto adesso, che ha a che fare sia con il Rebbe e con una chiamata, un messaggio che ho ricevuto questa settimana. Allora dovete sapere la seguente, in Toscana, in Aulla, vive una famiglia, in Toscana, in questa zona qui, Aulla, eccetera, non dico che non ci siano ebrei, ma quasi, sicuramente non c'è una comunità, c'è un po' a Pisa, sono un po' sparsi, riescono a fare minyan soltanto, diciamo, a Kipur, forse a Rosh Hashanah, ma è una zona, non è come Firenze, ma è una zona dove vivono pochi ebrei e sono anche, diciamo, sparsi, non sono concentrati. C'è questa famiglia ad Aulla, che si chiama la famiglia Baruzzo, tanti di voi li conoscono, Laura Baruzzo che è qua con noi, che ci sta ascoltando, praticamente questi signori qua, abitando lì, loro diciamo che non hanno, da giovani, ok, non hanno, diciamo sì, erano tradizionalisti, ma non seguivano le mitzvot in un modo, diciamo, preciso, meticoloso, come lo fanno oggi. Loro oggi, Baruch Hashem, sono una famiglia, grazie a Dio, fantastica, una famiglia ortodossa, seguaci del Rebbe, tengono tutte le regole, Kasher, Shabbat, tutto, proprio, fanno di tutto, ma all'inizio, quando erano giovani, quando si erano sposati, quando erano giovani, non erano ancora, diciamo, i signori Baruzzo, in questo livello che sono Baruch Hashem oggi. Loro, per farvi un po' di idea di come sono arrivati, loro, è una cosa molto interessante, sapete c'è il Moked, c'è questa istituzione in Italia, ebraica, dove fanno i campeggi, i incontri ogni tanto, loro raccontano che nell'anno 2000 c'era questo raduno, questo campeggio per famiglie del Moked, e loro sono andati, marito e moglie, lì incontrano e vengono a conoscere una famiglia che abitavano a Milano, oggi hanno fatto l'alià in Israele, lì si incontrano, questi due marito e moglie di Milano, loro sono seguaci, anche loro, stessa storia, non erano all'inizio osservanti, e pian pian, cioè meno, comunque non come oggi, diciamo, tradizionalisti, e oggi sono con la barba, con il signor Baruzzo, con la barba, Hassidim del Rebbe, eccetera, eccetera, sono due signori che si chiamano Guetta, questi signori Guetta si conoscono con i signori Baruzzo, parliamo del punto dell'anno 2000, e in qualche modo li invitano a venire a Milano, li fanno conoscere, diciamo, in uno dei viaggi che i signori Baruzzo venivano a Milano, li portano nella loro sinagoga, che è un Bethabad, che è Rav Igal Hazan, uno degli emissari del Rebbe a Milano, e segue questo tempio, affondato e segue, perciò i signori Baruzzo di Aula vengono a conoscere, questo rabbino, il emissario del Rebbe, uno di Milano, e continuano a, e convinciano ad andare nel loro tempio, nella sua sinagoga, ovviamente loro abitando lì, venivano, andavano e vadavano, e sempre di più conoscevano e studiavano con Rav Igal, fatto sta che loro sempre di più, man mano, man mano, diventano sempre più ortodossi, più osservanti, tutto quanto, poi i loro figli sicuramente anche seguono Baruch Hashem, le loro orbe, o forse non erano ancora nati, e nascono già, appunto, secondo l'educazione che loro avevano dato, e Baruch Hashem, oggi loro sono una famiglia stupenda, io ogni volta ho rimpianto, peccato che loro non abitano qui a Milano con noi, però Hashem li ha messi lì in Aula, sicuramente loro hanno un compito di diffondere l'ebraismo e luce con le preghiere che loro fanno tutti i giorni, sicuramente hanno la loro missione lì ad Aula. Lunedì sera, martedì sera, stavo tornando da una lezione, mi arriva un messaggio della loro figlia, che si chiama Eliceva, lei è una ragazza di 18 anni, mi ha messaggio, dovevate sentire, un messaggio vocale, dovete sentire con che enfasi, con che orgoglio, con che gioia mi stava raccontando la storia che adesso vi racconterò. Ovviamente io prima di fare i loro nomi ho chiesto il permesso a loro, e la storia è la seguente, lei è una ragazza di 18 anni, ok? E dice che lei per l'estate stava cercando da tempo un lavoretto per fare, per non passare tempo inutile, per guadagnare qualche soldo e così via, per essere un po' occupata. Però non trovava nessun tipo di lavoro, cercava in diversi posti, ecco il signor Baruzzo appena entrato, cercava in diversi posti, ma non trovava. E dice addirittura ogni Shabbat, venerdì sera, quando lei accende le candele, sapete che le donne quando accendono le candele hanno un momento molto particolare per chiedere a Dio o benedizioni, mi raccomando, quando accendete le candele, oltre a dire la benedizione, parlate a un momento veramente molto profondo, molto intimo tra la donna e Dio, dove la donna può parlare proprio nella propria lingua, Dio capisce tutte le lingue, di parlare proprio e svuotare il suo cuore, raccontare la sua settimana, le sue angosce, le sue paure, le sue gioie, le sue vittorie, tutto, quello che vogliamo in quel momento la donna può chiedere anche benedizioni speciali per se stessa, per i figli, la famiglia e così via. Perciò la nostra riceva dice addirittura arrivata alle candele quando pregavo di chiedere a Dio di farmi trovare questo lavoretto per l'estate per non perdere tempo e così via. Benissimo, dopo un po' lei, aveva messo annuncio a tutte le parti, ha trovato un annuncio che cercano un personale del lavoro per fare animatore turistico. Lei chiama o manda un'email e subito viene ricontattata e lei nell'arco di pochi minuti, da quando dice dopo 10-15 minuti che ho mandato, ho ricevuto già la risposta e già ero lì che stavo facendo un'intervista online e lei mi chiedevano, mi stavano intervistando e dice che è stata felicissima che finalmente ha trovato questo posto che la vogliono prendere e dice che tra l'altro è anche molto vicino a casa sua, a 20 minuti da casa sua e lei dice subito a questi signori qua, sappiate che io sono una ragazza ebrea, perciò io di Shabbat di regola non posso lavorare, se a voi va bene possiamo parlare, perciò lei subito la prima cosa che mette in chiaro è Shabbat, le dicono guardi non c'è problema, tu puoi benissimo tenere il tuo Shabbat, tanto hai un giorno libero puoi scegliere quale giorno libero sia, prenderai i giorni Shabbat, va bene, le inviano il contratto, lei firma il contratto, tutti sono molto gentili con lei, molto disposti ad aiutarla, avviene l'incontro sia per tenere Shabbat che anche per addirittura uno di quelli che li ha chiamati, fa sì sì ho capito tu sei ebrea, un'altra persona tiene Shabbat e poi tiene anche il Kacher, lui dice la parola Kacher, l'aiutano a trovare un angolo in una cucina per avere le sue cose, un frigorifero, praticamente sono al 100% disposti ad aiutarla per poter venire a rispettare la sua religione per poter venire a lavorare nel loro posto. Lei mi racconta che precedentemente aveva fatto diversi colloqui di lavoro e tutti dicevano no, Shabbat devi lavorare, perciò se tu Shabbat non puoi lavorare, allora non fai per noi, cercati un altro posto. Se lei dice tanti posti ha parlato e tutti dicevano devi scendere a compromessi, Shabbat devi lavorare, ma lei ovviamente non voleva lavorare Shabbat, perciò lei addirittura già pensava tra sé e sé, va bene non ho trovato nessun tipo di lavoro, andrò in Israele a mia sorella che è già sposata grazie a Dio, ha dei bambini, andrò a fare la zia, non lavorerò, va bene andrò in Israele starò da mia sorella, starò con lei, l'aiuto e così via. Già nella sua mente pensava di partire. adesso vediamo da questa storia tanti insegnamenti, per tutto qua la protagonista nostra non è una donna di una certa età, ma una ragazzina, una ragazza, 18 anni, anche se diceva un peperino però è una ragazzina ancora, è giovane, piccola. Lei a 18 anni mette subito in chiaro la sua identità, lei non ha paura, non ha vergogna, non vuole svendere se stessa per un qualcosa che ci teneva tanto, lei subito mette in chiaro io sono una ragazzina, ho delle regole, vediamo se riusciamo ad andare incontro uno o l'altro. Perciò la prima cosa che impariamo da questa storia, lei diceva, di non perdere mai speranza. Quando un qualcosa non funziona vuol dire che non sa da fare, come si diceva, questo matrimonio non sa da fare. Non sempre quello che a noi piace, quello che a noi sembra sia giusto, per forza è bene per noi. Dio lo sa. Quando un qualcosa non va in porto e noi pensiamo che quella era veramente una grande cosa per noi, non è vero. Se non va in porto vuol dire che il creatore del mondo ha qualcosa di meglio per noi, vuol dire che il creatore sa che quella cosa è nociva per noi, non va bene. Noi siamo abituati a guardare i nostri parametri. Quello che io penso è giusto, per forza deve essere giusto. Non per forza quello che noi desideriamo è veramente il bene per noi. E l'isceva ci insegna, non perdere speranza, non un lavoro, un altro lavoro, un altro lavoro, non magari questa estate, magari un'altra volta, ma lei neanche per un attimo ha pensato di svendere la propria anima. E questo è il secondo punto. Mai svendere la nostra identità, mai svendere la nostra anima per un lavoro, per un qualcosa, qualsiasi cosa che magari ci alletta. Sono tante persone che sono pronti a fare di tutto, quando vogliono fortemente qualcosa. Sono tante persone che svendono il loro corpo, la loro anima, la loro personalità per arrivare lì dove vogliono. Ricordiamoci che arrivare lì dove vogliamo è tutto in mano di Dio. Certo, noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo agire, fare, lavorare, ovviamente, ma alla fine se arrivo in vetta o no, adesso parlo generalmente, arrivare in vetta, arrivare tante anni, che abita a Ulla, non a Gerusalemme, a Milano, a Roma, ma è cresciuta con dei valori che i suoi genitori gli hanno dato. E lei dice, io non svendo il mio Shabbat, neanche il mio Kasher. Ha detto di no, di no, di no, finché finalmente è arrivata il posto giusto per lei, il posto dove il suo masale è forte, dove la sua brachà è lì e non altrove. E diceva, è giovane, però può insegnare a tutti veramente un insegnamento di cos'è un ebreo orgoglioso del suo ebraismo. Altre volte ho detto, Raff Saks diceva sempre che i gentili rispettano gli ebrei quando gli ebrei rispettano se stessi e gli stessi gentili non sopportano gli ebrei quando loro non hanno il valore della loro identità. Questo è bellissimo, che loro vedono se tu tieni la tua religione, se tieni la tua identità e non ti svendi, hanno tutti rispetto di te, ma gli stessi gentili se tu ti svendi dicono ah, questa persona non ha nessun valore e noi cadiamo agli occhi delle persone. Perciò impariamo, grazie diceva, grazie che hai voluto condividere con me questa lezione affinché io possa raccontarla a tutti, grazie per avermi dato anche il permesso e veramente ci ha insegnato una grande cosa. Anche Yael, vi ricordate a Shavuot che ha detto che non lavorava più di Shabbat e tanti altri ancora di voi che nel passato hanno smesso di lavorare di Shabbat e tenere le cose. Questa è la forza che Hashem ha instillato dentro in noi. A Shem c'è un'anima e questa anima, noi dobbiamo ascoltare quello che l'anima dice. Non dobbiamo sopprimere la nostra anima perché vogliamo qualcosa, non dobbiamo forzare le cose, le cose vengono. Dio sa cosa è bene, quando è bene, quanto è bene, Dio sa tutto. Certo dobbiamo pregare, dare tutto il nostro massimo, ma dobbiamo rimanere in noi, dobbiamo mantenere la nostra calma, la nostra tranquillità, la nostra personalità, la nostra identità, mai piegarci per niente al mondo perché lì dove dobbiamo arrivare sicuramente Dio ci aiuterà ad arrivare. Ok, grazie e ricevo ancora. Cominciamo adesso la nostra lezione e ovviamente tutto questo è perché il Rebbe ha mandato emissari nel mondo e loro sono arrivati in Italia, questi emissari hanno incontrato tramite un'amicizia, tutto comincia perché 50-60 anni fa avrebbe avuto la lungimiranza di dire il mondo ha bisogno di persone che vanno in giro a accendere gli animi delle persone a ritornare verso Dio. La pace è il Korach, la storia la raccontiamo, la conosciamo, è sempre quella. Korach, brevemente, era cugino di Mosè e Aronne e vedeva che Mosè e Aronne avevano tutti gli onori, Mosè era il leader, Aronne era il sommo sacerdote e lui che era proprio cugino, primo cugino, non aveva ricevuto nessuno tipo di onori eccetera, nessun tipo di responsabilità della comunità e lui ha fatto una rivolta contro Mosè e Aronne per dire siamo tutti santi perché voi vi innalzate sul resto del popolo. Praticamente aveva un po', era un po' rattrestito che lui non poteva partecipare, ovviamente lui all'inizio aveva un buon intento, voleva anche lui avvicinarsi a Dio, essere il sommo sacerdote, fare qualcosa per la comunità, però l'ha fatto in un modo sbagliato, perciò lui è stato punito per il fatto che anche se hai una buona idea, ma se lo fai in un modo sbagliato non va bene. Allora, sappiamo la storia che loro fanno una rivolta e convincono 250 persone a rivoltarsi contro Mosè e Aronne e la storia dice che la terra si apre, loro vengono tutti inghiottiti e la storia in breve è questa. Più avanti nella parasha di Pinchas c'è scritto che i figli di Korach non morirono, c'è scritto che Korach e tutta la sua famiglia sono stati inghiottiti dalla terra. Più avanti, ripeto, nella parasha di Pinchas dice i figli di Korach non sono morti, allora dice Arashi, che prende nel Talmud, che c'è scritto che loro sotto terra, quando erano già inghiottiti, lì hanno fatto teshuva, si sono pentiti del cattivo comportamento che hanno avuto contro Mosè, hanno fatto teshuva e c'è scritto che lì si è creato per loro un posto giù nella terra, nell'inferno, un posto dove loro potevano, un posto più alto dove loro potessero rimanere in vita e poi loro sono usciti dopo un po' e hanno cominciato a vivere e lì loro nell'inferno ancora sotto terra cantavano i figli di Korach, cantavano lodi a Dio, infatti mi dico una chicca, nei salmi di Re Davide, nei 150 capitoli che leggiamo nei Tehillim, non tutti sono stati scritti da Re Davide, la maggior parte sì, ma ci sono anche una dozzina di salmi composti proprio dai figli di Korach che anche loro avevano partecipato con loro papà a tutta la rivolta, alla ribellione. Proprio qua esattamente vediamo la forza della teshuva che anche sotto terra, ma in quel momento, finché erano vivi ancora, hanno avuto questa sensazione, questo desiderio di teshuva, anche se non hanno chiesto scusa a Mosè perché erano già sotto terra, però Dio ha letto il loro cuore e un attimo prima di morire sotto terra facendo teshuva sono rimasti, Dio ha creato per loro uno spazio che loro potessero rimanere vivi. Poi sono usciti e appunto hanno composto dei salmi che noi tuttora leggiamo. C'è una storia particolare che accade nella parasha, Dio dice che ogni capo tribù deve prendere un bastone e scrivere il proprio nome su questo bastone. Quando loro hanno fatto la ribellione, allora Mosè dice sapete voi volete essere al posto di Aronne e essere il Kohen, il sommo sacerdote, facciamo così, facciamo una prova. Portate un bastone, scrivete il vostro nome sopra, li metteremo nel santuario questi bastoni, precisamente nel Ohel Moed e colui il quale bastone fiorirà, germoglierà e poi fiorirà, questo sarà il simbolo, il segno che lui sarà disegnato da Hashem. Questo è quello che Mosè dice, dice voi volete una prova? Volete fare una gara? Un bando? Benissimo! Portate un bastone, lo metteremo nel santuario, chi fiorirà? Allora quello sarà il simbolo che Dio avrà scelto, il suo bastone, o voi o Aronne, vedremo. L'indomani videro che, quale fu il bastone che fiorì? Ovviamente era il bastone di Aronne, perché ovviamente tutto quello che succedeva, non è che Mosè e Aronne si erano imposti, Dio aveva dettato, perciò tutta questa disordine era tutto fuori luogo, perché era tutta la volontà di Dio. Perciò quando loro hanno avuto il segnale, la cosa strana è che loro, ogni capo tribù, sono tornati nel santuario e ognuno ha preso il proprio bastone. Perché? Se il bastone l'hai portato per fare una prova e poi questo bastone non ha fiorito, perciò c'è il simbolo che Dio non ti ha accettato come sommo sacerdote, cos'era il bisogno di ritornare sul luogo e riprendere il proprio bastone? Potevano lasciarlo lì, quel bastone non aveva nessun tipo di santità o non aveva nessun tipo di valore, perché riprendere indietro? Invece quello di Aronne è rimasto lì nel santuario e loro l'hanno tolto. Poi più avanti vedremo la risposta del perché loro hanno preso il loro bastone. Cosa risponde Mosè a queste persone? Dice non vi basta essere leviti e di conseguenza far parte dei lavori nel santuario? Ora volete anche essere cohen, dei sacerdoti? Perciò già avete essere leviti, è già una buona cosa, avete comunque delle mansioni, no? Voi vedete di più, vogliamo essere cohen? E dice Mosè, anch'io vorrei essere, vi pare che io nel cuor mio, dice Mosè, non desidero anch'io essere un livello più alto, il sommo sacerdote? Anche io vorrei così, però, però, dice Mosè, c'è un solo Dio, c'è un'arca, c'è un'altare, c'è una Torah e c'è un sommo sacerdote. Per quanto io Mosè anche vorrei essere un sommo sacerdote? Ma Dio ha scelto Aronne, io non posso impormi. Perciò dice, tutti volevano fare il lavoro dei sacerdoti, però, dice Mosè, una persona, tutti abbiamo un diritto, loro dicevano di avere intimità con Hashem, perché è solo Aronne, perciò è un concetto molto bello, loro volevano essere veramente vicino a Dio, essere superiori spiritualmente, però Mosè dice, ragazzi, non ho scelto io, Dio ha scelto. Ma dopo 3.000 anni da questa storia, in realtà vediamo che noi facciamo ancora lo stesso sbaglio che hanno fatto queste persone qua. Attenzione, loro volevano avvicinarsi a Dio, abbiamo detto, giusto? Perciò l'intento alla base, l'intento era buono, essere superiori e vicini a Dio. Korach, il capo della ribellione, pensava che ci sono persone più vicine a Dio di altre? Ovviamente questo non è giusto, non c'è una persona che è più vicina a Dio, c'è una persona magari che ha dei compiti più importanti o delle responsabilità, mansioni più importanti, più grandi di altri, ma l'azione, ma non è che questo mi rende più vicino o più lontano a Dio. I sacerdoti, per esempio, non vuol dire che sono più vicini a Dio perché loro sono sacerdoti, perché tutti siamo collegati con Dio in un modo uguale. La risposta è che solo perché il tuo compito è di stare nel santuario, questo non ti rende più vicino a Dio di altri. Questa è la risposta bellissima. Korach pensava che soltanto nel santuario tu puoi essere elevato. Lui prendeva Dio e lo metteva soltanto nel santuario. Vuol dire che Dio fuori non c'è? Che devi essere soltanto nel santuario a fare un determinato lavoro per essere veramente vicino a Dio, elevato? invece la risposta è che Dio è dappertutto. Non c'è un angolo del mondo dove Dio non si trovi, non c'è un modo limitato di come connettersi con Hashem. Non significa che solo chi è nel santuario li trova Dio e allora se non sei addetto ai lavori non trovi Dio. non è vero. Bensì la spiegazione è trova Hashem lì dove ti trovi, dove tu sei, dove vivi, dove stai, dice la Torah. Lì devi trovare la tua connessione, la tua intimità con Dio. Korach sbagliava in una cosa fondamentale che anche, ti ripeto, tuttora noi facciamo. lui diceva, ah io voglio essere connesso con Dio, lo posso fare soltanto se sono un sacerdote, soltanto se ho un lavoro nel santuario. Mosè spiega no, Dio è dappertutto, ci sono infiniti modi, infiniti canali di come connettersi con Dio. Ognuno ha la sua missione, ognuno ha le sue risorse, le sue capacità, ognuno ha il suo viaggio, ognuno si connette a Dio, con il suo cammino. C'è chi si commette a Dio perché è figlio di un rabbino, nipote di un rabbino, perciò ha la strada già spianata. C'è chi lo fa, come la strada che abbiamo sentito, perché si è avvicinato dopo. O c'è chi si avvicina ancora più tardi, signore Baruzzo, ancora in età più avanzata. Non c'è un limite, non c'è, ah solo in quel modo lì. Infiniti modi, infinite strade per arrivare a Dio. Ognuno col suo cammino, ognuno con le sue tempistiche, con il suo modo di essere. Ognuno è stato messo nel mondo esattamente nel posto giusto per compiere la sua missione. Come dicevo prima, i signori Baruzzo abitano in una Ulla, dove non c'è veramente niente di ebraismo. Dovano fare la spesa casher un po' a Milano, un po' a Roma. Non possono avere un Mignano ogni Shabbat, perciò spesso vengono a Milano per ricaricare il pire, per andare al Tempio, alle festività, ai Shabbat segnalati. E spendono tanti soldi ogni volta per il viaggio, per stare, affittare, andare. Però Dio è la Messia Ulla. Vai a capire perché? Ha una nuova missione lì. Perciò ogni persona ha la sua missione. Lì dove lui si trova, il suo compito è lì. Lì dove si trova, che sia geograficamente o che sia spiritualmente, come nel caso di Korach, non è importante dove ti trovi o che livello spirituale sei. Dovunque ti trovi, lì deve essere capaci di trovare il tuo spazio, la tua dimensione, il tuo santuario. Lì dove ti trovi devi creare e trovare il tuo santuario, la tua dimensione nel tuo santuario e lì crescere e connettiti con Dio. Non per forza nel santuario di Gerusalemme. Perciò lì noi dobbiamo essere capace di trovare il nostro spazio e connetterci con Hashem senza dover dire vorrei essere lì al posto suo, vorrei essere un Kohen, vorrei essere un sacerdote, un cantore, un mentore. No! Quante volte sentiamo questa frase? Se solo io fossi questo e quest'altro, potrei fare chissà quant'altro. Se solo io avessi studiato, se solo i miei genitori mi avessero insegnato Torah da bambino, quanto potrei essere avanzato adesso? Se solo vivessi in Israele, quante mizzo potrei fare in Israele? Quanto kasher potrei mangiare in Israele? Non funziona così. La storia non si fa con i secoli ma. Se io fossi in Israele potrei fare. No! Dovunque ti trovi, in qualsiasi situazione ti trovi, lì devi creare il se fossi. Siamo noi che ci creiamo il nostro se fossi. Non deve venire un regalo dall'altro. Certo, quando Korach diceva siamo tutti santi, perché Mosè e tu e Aaron vi è elevate su di noi? Ma non significa, è vero che siamo tutti santi, ma non significa che se siamo tutti santi dobbiamo fare tutti la stessa cosa. E questo è il punto. Non dobbiamo avere gli stessi incarichi, le stesse responsabilità e posizioni. Siamo tutti santi, ma ognuno nella sua strada, nel suo modo, nel suo habitat, nella sua vita. E non se non sono nel Tempio, allora il mio lavoro non ha valore. questo è sbagliato. Ognuno ha le sue responsabilità dove si trova. Il cuore ha le sue funzioni, la sua importanza nel corpo, i reni, il cervello. Ogni membro del nostro corpo ha la sua importanza. potete immaginare che se il cuore comincia a voler prendere la funzione dei reni e viceversa, se ogni organo vuole cambiare il suo lavoro e fare il lavoro di qualcun altro e gli invertire e fare qualcosa di altri, possiamo immaginare come il nostro corpo collassa. Perché il cervello deve fare il cervello, il cuore, il cuore, ogni membro ha il suo lavoro e non si può cambiare e fare il lavoro di qualcun altro perché non siamo capaci. Lì dove sei, lì crea il tuo santuario, che tu sia a Gerusalemme o che ti sia a Caltanissetta, lì tu devi creare il tuo santuario dove tu puoi crescere, migliorare ed elevarti spiritualmente lì dove sei. Non dire ah, finché non vado a Milano, a Roma a vivere non potrò fare. No, dovunque ti trovi devi creare il tuo habitat, il tuo canale per arrivare ad Ascena. Ci sono dei momenti che ci sentiamo al settimo, al settimo cielo, felici, tutto va bene, ma ci sono dei momenti che al contrario sentiamo come un fiore appassito, privi di vitalità, di forza, di amor proprio, abbiamo i nostri problemi, traumi, difficoltà e la domanda è come posso scoprire Dio in queste circostanze. Tu ci stai dicendo adesso una bella cosa, abbiamo parlato una bella cosa, il santuario non è soltanto il santuario di Gerusalemme, ma ognuno deve creare il suo santuario personale. Benissimo. La domanda che ci poniamo adesso è, quando tutto va bene è facile, ma quando le cose non vanno verso il verso giusto, non come noi vogliamo, abbiamo difficoltà eccetera, come faccio a creare il mio santuario nonostante la mia tristezza, la mia debolezza, la mia stanchezza spirituale e mentale, come faccio? Come faccio a scoprire Dio, a trovare Dio, a vedere Dio quando sono triste, quando sono sconcertato, quando ho una circostanza negativa? La risposta è non fare lo stesso sbaglio che ha fatto Korach, che se sei vicino a Dio, allora solo nel santuario o nei momenti favolosi puoi trovare Dio, no? Puoi trovare Dio in tutte le situazioni, anche e oserei dire specialmente nelle occasioni tristi, nelle situazioni difficili, non c'è un solo modo di poterci connettere con Hashem. Le vie del Signore sono infinite, è un modo di dire ma è vero, sono infiniti canali di come arrivare a Dio, non è che se una strada è bloccata non posso più arrivare a Dio, se in questo momento sono triste, allora io sento che la mia strada è bloccata, ci sono altri modi, sono altri canali, ovviamente la tristezza è una cosa negativa che blocca tutto in realtà. Ricordiamoci, quando siamo tristi non riusciamo ad andare avanti, quando siamo scoraggiati è grave essere tristi e scoraggiati perché non ci dà la forza di reagire, dobbiamo cacciare via la tristezza con tutta la nostra forza e dire anche se io in questo momento ho la tristezza, io ho l'obbligo di trovare Dio, di crearmi un santuario e di trovare Dio. Certo, non è facile ma non è impossibile. Perciò di non fare lo sbaglio che ha fatto Korach, che lui diceva se non sono nel santuario non sono un tzaddik, noi possiamo essere tzaddik, possiamo essere felici e gioiosi ognuno lì dove lui si trova. Perciò Mosè dice c'è un solo sacerdote e non tutti possiamo esserlo. Dice il Talmud una storia, una famosa storia che una volta un gentile, un non ebreo, va da Shammai, dal maestro Shammai e dice insegnami la Torah su un piede, voglio convertirmi, insegnami in un piede tutta la Torah. Shammai cosa lo fa? Lo caccia via, cioè arriva lui, noi studiamo Torah una vita intera e ancora non abbiamo fatto tutto, arriva lui in un piede, perciò in pochi secondi vuole tutta la Torah, lo caccia via perché non vorrà anche rispondergli. Questa stessa persona va dall'altro maestro che si chiamava Hillel e gli dice stessa cosa, lui cosa gli risponde? La famosa risposta conosciamo tutti, gli dice non fare agli altri quello che non piace venga fatto a te e tutto il resto sono i commenti di questa frase. Cosa vuol dire questa storia qua così strana? Va da uno, la caccia via, va dall'altro e gli dà una risposta, non fare agli altri quello che tu odi, che non venga fatto a te e poi tutto il resto sono soltanto i commenti, vai a studiare? Dice la Hasidut una cosa bellissima, il Maghi di Mesric dice così, lui intendeva, vediamo come la Hasidut gira e dà un'ottica diversa di questa storia, cosa vuol dire su un piede unico? Dice così, questo signore diceva, voleva stare, insegnami come stare su un piede unico, ovvero rimanere sempre allo stesso livello, sempre carico, ispirato, sempre con il fuoco acceso, dice non voglio scendere, voglio rimanere su un piede, vuol dire sempre allo stesso livello, sempre giorno, sempre luce, sempre positivo, mai notte, ma ciò non è possibile, non esiste momenti che non esistono sempre essere col fuoco acceso, anche il fuoco vero e proprio, vedete un po' sale, poi un po' scende, la candela no? Sale, poi scende, non è sempre una cosa regolare, anche il fuoco non è regolare, ci sono momenti di buio, perciò Shamai, il primo maestro, in realtà non lo sta cacciando via, gli sta raccontando la verità della vita, lui dice caro amico mio, no, ci sono dei momenti alti e momenti bassi, non puoi pretendere di avere soltanto momenti alti, tu vuoi su un piede, nel senso un unico livello? No, non esiste questo, tu devi mettere in mente che non esiste, nella vita ci sono alti e bassi, è proprio quando a volte cadiamo giù in basso, che rimbalziamo ancora più in alto di prima, questo è quello che Shamai intendeva cacciandolo via, non prende neanche in considerazione quello che tu dici, non esiste soltanto salire, 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 si sale, si scende, la vita è altalenata, anche la nostra spiritualità è altalenata, certo sarebbe bello essere sempre felici, gioiosi, crescere sempre di più, ma a volte si scivola, è normale, siamo umani. Hillel, l'altro maestro, invece voleva spiegargli che può cadere, quando gli ha dato la spiegazione, dice puoi cadere in basso, ma comunque puoi salire in alto, gli ha detto l'insegnamento in un altro modo, gli ha spiegato in un altro modo, gli accende la tua anima, anzi a volte, come dicevo prima, è necessario cadere per poi gli salire ancora più in alto, a volte qualcuno si butta nel mare, nell'abisso, per salvare un'altra anima, deve cadere giù in basso per salvare qualcun altro, no? A volte dobbiamo sporcarci per far crescere qualcun altro, come fanno gli emissari del Rebbe, nel mondo, certi emissari vanno veramente in posti difficili da vivere, veramente senza scuola, senza casher, vanno in propri angoli del Nepal, vanno in tutti questi posti sperduti, dove ora c'è, ma all'inizio non c'era neanche cibo per i loro bambini, e loro andavano con le loro moglie, i figli, andavano, si buttavano nel fango per salvare un ebreo lontano e portarlo a Dio, perché questa è la missione che Rebbe gli ha dato, perciò a volte devi per forza buttarti nel fango per aiutare una persona a salvarsi, perciò non c'è soltanto, non esiste un livello standard, ci si butta in basso per poi salire, perciò la risposta che dice non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te, significa non può sempre rimanere in alto, a volte devi scendere, sporcarti, e poi per salvare un'anima a una persona, ma Korach dice no, io non accetto questo, lui era testar, dice no, non è giusto, voglio essere sempre in alto, essere sempre vicino a Dio, e la risposta è Korach, va bene, abbiamo capito che c'è un buon intento, ok, ma tu stai sbagliando il pensiero, io voglio essere sempre in alto, sempre vicino a Dio, perciò devo essere in santuario, chi ha deciso dove è Dio, tu decidi dove Dio c'è, dove Dio non c'è, come sai dove collocare Dio, forse Hashem è proprio lì, in Nepal, dove tu devi andare lì a buttarti nel fango per salvare un ragazzo dalla droga, come succede, lì è il tuo Dio, lì è dove tu puoi, proprio nel buio più buio, tu porti la luce, perciò tu incontri Dio lì, quelli emissari del Rebbe che va in Nepal, o in Thailandia, o in tutti questi posti sperduti, lì lui trova Hashem, ricordiamoci, gli emissari del Rebbe, i chassidim, gli allievi del Rebbe, tutti vorremmo essere vicino al Rebbe, tutti vorremmo essere a New York, a Brooklyn, e vederlo ogni giorno, pregare con lui, sentire i suoi insegnamenti, il Rebbe ha detto tante volte, quelli che vanno in lontano, che vanno in missione, in Shlichut, per salvare altre persone, loro sono più vicini a me, di quelli che sono fisicamente vicini a me, che io vedo ogni giorno, perché quelli che vanno lontano, vanno a fare quello che io chiedo, e Rebbe vuole che tutti gli ebrei tornino a Dio, che tutte le persone nel mondo in realtà, anche i gentili, Rebbe si preoccupa, che tornino a Dio, con il loro mitzvot, le mitzvot dei gentili, perciò dice, tu, Korach, cosa fai? Stai limitando Dio? decidi che Dio è soltanto in quel modo là? Lì dove tu ti trovi, devi fare la luce. Ripeto, tutti vogliamo essere vicino al Rebbe, ma se una persona che è capace di andare nel mondo, aiutare le persone, se lui sta vicino al Rebbe e non parte, lui lì non trova il Rebbe, lui lì non trova la luce di Dio, non trova la propria interiorità, la propria dimensione, non la trova. È vero, ha piacere che vede il suo maestro ogni giorno, ma non sta facendo quello che lui è veramente capace di fare. Perciò, chi decide? Decidiamo noi? No. La risposta è a Korach, non decidi tu, nessuno decide dov'è Dio per te, dov'è la mia missione, è Dio che decide dove trovarlo. È Dio che si va a mettere in dei posti, dice, io sono qua, vieni a cercarmi qua, perché la tua missione è qua. Perciò, proprio, forse a Sceme è proprio lì in basso, dove c'è il buio più profondo, e tu incontri Dio proprio lì, mentre stai dando la tua luce, proprio dando la tua luce in un posto buio, è lì che trovi il tuo Dio, il tuo, tra virgolette. Non c'è, ma c'è solo un modo per non sentirsi vittima, solo se ti senti un emissario. Se tu ti senti vittima in tutta questa vicenda, ah, io devo allontanarmi, ah, io non posso essere il Kohen, non posso essere nel santuario, vorrei ta... Questo è vittimismo. C'è soltanto un modo, se tu ti devi sentire un emissario, un ambasciatore, un messaggero di Dio, che anche in un posto dove tu non ti piace stare, ma tu devi dire, mi ha mandato Dio qua, la mia luce è qua, allora sì che sei invincente. Il mondo è tondo, perché non ha alto e basso, non ha un inizio e una fine. vuol dire dove sei, lì devi trovare Hashem. Non, ah, quando sarò in alto, vedrò Dio, o così via. I figli di Korach, che hanno fatto la ribellione, sotto terra, è proprio lì compongono i salmi. Hanno il peccato! La terra li ha inghiottiti, Dio li ha puniti. E cosa vediamo? che proprio lì sotto terra hanno composto i salmi. Cosa vuol dire? Che lì, vuol dire che una persona può essere all'inferno e proprio nell'inferno trovare l'opportunità di salire in paradiso. Proprio dall'inferno puoi creare il tuo paradiso. Ovviamente stiamo parlando in senso metaforico, no? Loro era in senso vero e proprio, loro dall'inferno hanno creato la loro vita di nuovo. Ma non parliamo di quell'inferno, parliamo metaforico. Se Dio ti vuole incontrare giù in basso, ma tu lo vuoi incontrare altrove, non lo troverai mai. Io voglio incontrare Dio a Gerusalemme nel santuario con le vesti del sommo sacerdote. Se non lo sei, non incontrerai Dio. Non è che noi incontriamo Dio nel modo come noi vogliamo e nel posto come noi vogliamo e nel momento come noi vogliamo. Non è questo. Qua dice appunto, se tu vai, se tu vuoi incontrare Dio ma Lui è altrove, ognuno ha il suo, tra virgolette, il suo Dio, il suo posto dove Lui deve andare. Se tu non vai nel posto giusto, non incontrerai Dio, non incontrerai la tua luce, non incontrerai la tua benedizione, la tua gioia, la tua missione. Non sempre dove noi ci piace essere è il posto giusto. a volte proprio dove non ci piace essere proprio lì è il posto dove dobbiamo essere. Non siamo qua per fare quello che è piacere per noi. Siamo qua per fare quello che è giusto e quello che è giusto lo capisce Dio. Perciò quando ti trovi in un posto e ti senti stretto devi essere gioioso perché devi capire Dio mi ha messo qua. Dio mi ha messo aulla. Dio mi ha messo in qualche altro posto sperduto. Chissà perché. Ma nel frattempo io faccio luce dove mi trovo e non sto a dire va bene quando andrò a Gerusalemme allora comincerò a essere ortodosso. No. Lì dove sei lì devi portare la luce di Dio lì devi creare il tuo santuario lì diventerai tu veramente il sommo sacerdote e lì incontri Dio. magari un giorno magari un domani cambierai posto ma nel frattempo la tua Gerusalemme è lì dove sei. ora rispondiamo alla domanda dei bastoni come mai sono tutti andati a riprendere il proprio bastone invece quello di Aronne è rimasto lì? Hashem dice tutti vogliono essere dei sommo sacerdoti benissimo prendi il tuo bastone quello che volevi fare l'incenso no? prendi il tuo bastone che hai fatto l'incenso ma era fuori luogo non era ancora al tuo momento ma prendilo questo bastone e portalo con te nel tuo viaggio perché lì dove sarai prima o poi il tuo bastone fiorirà non necessariamente nel santuario dove tu sarai il sommo sacerdote è il tuo santuario perciò prendi il tuo bastone perché troverai il posto dove il tuo bastone fiorirà e potrai essere veramente il sommo sacerdote perché se tutti vogliamo essere adesso nel santuario nel santuario questo non è non è possibile vedete cari amici questa lezione spero di essermi spiegato ci dà una forza interiore ci apre un mondo intero per dire che la Torah non mette dei paletti non mette dei limiti la Torah non è chiusa la Torah è aperta la Torah vuole avvicinare non vuole allontanare Korach il suo il suo pensiero era c'è un modo di arrivare a Dio c'è una sola strada la super strada se non c'è quella strada non c'è modo di arrivare a Dio questo è sbagliatissimo per arrivare da qui a un'altra città c'è la strada normale c'è la tangenziale c'è la super strada c'è il treno l'aereo ci sono tanti modi se una via si blocca vai in un'altra via non vuol dire che quella è l'unica via Korach vedeva una sola strada io devo essere al top io devo essere sempre in alto dice Moshe dice la Chassidut no oggi non sei lì un domani forse ma non vuol dire che se oggi non sei lì basta non sei più connesso con Dio lì dove Dio ti manda anche nella carcere egiziana che Giuseppe si trovava schiavo e dimenticato dal mondo lui lì ha trovato la sua luce lui lì emanava luce e poi è diventato vicere ogni cosa c'è il suo tempo ogni cosa ha la sua dimensione il suo momento e non limitiamo Dio nella sua grandezza Dio è dappertutto io posso arrivare a Dio dovunque mi trovo geograficamente o spiritualmente anche se ho un livello molto basso spiritualmente oggi non vuol dire che io sono anni luce lontano tutti siamo vicini a Dio tutti adesso che mi state ascoltando non è importante in questo momento dove vi trovate nella vostra ascesa spirituale la strada è lunga è infinita Dio è infinito non precludete nulla non chiudetevi la porta in faccia oggi fate soltanto una mitzvah benissimo curatela festeggiate questa celebrate questa mitzvah che fate non dite ah faccio solo una mitzvah bisogna seminare curare crescete questa mitzvah qua fatela fiorire da uno poi sboccerà diventerà un'altra mitzvah un altro ramuscello un altro fiore ma se uno si chiude le porte non ha più neanche gioia di vivere Dio non chiude le porte perché noi umani ce le chiudiamo le porte dovunque ti trovi lì è la tua Gerusalemme lì è il tuo santuario e lì tu col tuo bastone che non ha fiorito prima fiorirà perché lì è il tuo habitat quante volte una persona ha successo in una città mentre nella città precedente no perché ha capito che deve cambiare forse lì non era il masale era altrove forse era lì non precludiamoci andiamo avanti guardare alla grande concludo con una storia stiamo in tempo con una storia del Rebbe una storia il Rebbe ha tante storie molto significative molto grandiosi di far vedere come lui innanzitutto sappiamo che il Rebbe ha sempre incitato le persone a guardare il proprio potenziale andare al massimo come ho raccontato nel piccolo video di un minuto che oggi ho fatto uscire una volta un suo emissario aveva chiesto che aveva troppi impegni troppe cose non usciva più a seguire voleva diminuire il suo lavoro il Rebbe ha detto per il tuo bene aumenta ancora di più fai di più perché? perché lui sapeva che quella persona in realtà poteva fare di più il Rebbe ha sempre chiesto il nostro massimo la persona non capiva che lui poteva farlo e poi invece quando Dio quando Rebbe l'ha spinto l'ha incitato lui è riuscito a fare ancora di più ancora di più dobbiamo guardare non guardarci nel nostro piccolo dobbiamo guardarci alla grande dobbiamo guardare io ho tanta possibilità ho tanta forza interiore la devo usare per avvicinarmi a Dio la storia che volevo raccontarvi è siamo in una piccola isola che si chiama Corsau non so dove sia questo Corsau se qualcuno se lo vuole scrivere grazie c'è questa famiglia un'unica famiglia di ebrei che abita a Corsau dove in antichità c'erano c'erano comunità ebraiche poi sono andati tutti via infatti c'era una sinagoga vuota ovviamente c'era questo bambino questa famiglia che aveva un bambino di 12 anni questo bambino di 12 anni lo cacciano da scuola perché? sicuratevi questo bambino a 12 anni non voleva partecipare alle lezioni di catechismo non si sentiva a suo agio in una scuola non ebraica e lui non partecipava non voleva stare con loro stiamo parlando di un'unica famiglia di ebrei non non osservanti ma il bambino in qualche modo non si sentiva a suo agio voleva una scuola ebraica perciò l'hanno cacciato via perché lui non si comportava non si trovavano il padre non sa più cosa fare il bambino non vuole andare a scuola ma a 12 anni non puoi non andare a scuola ma non c'è una scuola ebraica non c'è una comune ebraica non c'è un tempio non c'è niente il tempio c'era ma non c'era niente lui si ricorda che sua nonna il papà sua nonna diceva ricordati figlio mio quando hai una preoccupazione quando hai un problema rivolgiti al Rebbe di Lubavitch e lui ti aiuterà lui va nella sinagoga va davanti a dove c'è la Torah e comincia a parlare con Dio Dio mia nonna mi diceva sempre che quando ho un problema di rivolgermi al Rebbe che lui mi aiuterà fate qualcosa per il mio figlio sono disperato aiutatemi ok nel frattempo cosa succede? in America durante la notte uno dei segretari del Rebbe Rav Khodakov telefona a Rav Kotlarsky Rav Kotlarsky che è il nostro coordinatore di tutti gli emissari del Rebbe lui è quello che viaggia in tutte le città del mondo dove c'è un posto nuovo da creare una comunità o un centro cabal dove va lì lui è il nostro diciamo non il nostro capo ma il nostro coordinatore il segretario del Rebbe chiama mezza la notte lo chiama e dice il Rebbe vuole che tu vai a Corsau non gli dice dove per chi per che cosa niente il Rebbe vuole che tu vai a Corsau mezza la notte l'indomani mattino lui fa il primo volo possibile va a Corsau non sa neanche dove andare arriva all'aeroporto e dice al tassista portami al tempio portami in comunità portami al tempio ebraico tutti conoscevano che c'è questo posto qua che anche se è inabitato è l'antico tempio questo rabbino arriva col taxi direttamente con le valigie va al tempio e lì incontra questo signore qua che uno o due giorni prima parlava a Dio piangeva diceva mia nonna mi ha detto di rivolgermi al Rebbe nessuno ha chiamato il Rebbe nessuno non sa neanche chi è il Rebbe ha sentito ma non l'ha conosciuto il Rebbe ha sentito di questo ebreo che sta aiutando che sta cercando aiuto in qualche modo il Rebbe il capo degli ebrei il capo spirituale il Rebbe sente percepisce il disagio degli ebrei il disagio delle persone lui in mezzo alla notte chiama probabilmente il fuso orario era quello mentre lui pregava il Rebbe sentiva in mezzo alla notte ha chiamato mentre quello pregava il fuso era quello il Rebbe chiama e dice vai c'è un ebreo che ti vuole non ha detto neanche dove cosa succede lui va lì soltanto per una famiglia ebraica il Rebbe con tutte le responsabilità che ha nel mondo con tutte le migliaia di centri scuole cose varie che il Rebbe ha sulle sue spalle lui si preoccupa anche di mandare un rabbino in mezzo alla notte per una famiglia vai da loro che hanno bisogno quando lui vede che dice mi manda il Rebbe è rimasto scioccato insomma ma come fai a sapere chi ti sto cercando dice io non lo so il Rebbe mi ha chiamato ieri notte e mi ha detto di andare qua e io sono venuto e ti ho trovato vedete il Rebbe percepisce qualcuno che soffre e manda un suo emissario ad aiutare questa persona cosa succede questa storia è di anni e anni fa oggi questo signore qua non solo che lui stesso suo figlio i suoi nipoti tre generazioni lui figlio quel figlio lì e i nipoti sono tutti tornati alla radigione sono tutti ebrei ortodossi seguaci del Rebbe e proprio settimana qualche giorno fa una nipote di questo signore qua si è fidanzata con un rabbino un emissario del Rebbe vuol dire addirittura il nipote è diventato così alto livello che si sposa il figlio di un rabbino questo ci fa capire che come dicevamo all'inizio non userà mai perdere la speranza qua ci fa capire che il Rebbe è stato sempre lungimirante nel spargere ebraismo in tutto il mondo tutti noi dobbiamo seguire l'insegnamento che il Rebbe ci ha dato quando vedi una persona deve vedere il suo lato positivo e non vedere i sbagli che fa tante persone hanno bisogno di aiuto il Rebbe ci chiede a tutti noi non soltanto a noi emissari a tutti quelli che ascoltano il Rebbe vuole che ognuno di voi che ha un parente un figlio un conoscente un vicino di casa che ha bisogno di essere preso per mano accarezzato coccolato incentivato anche materialmente non solo spiritualmente il Rebbe ci chiede continuate il mio lavoro non fate un modo di bloccare che il mio lavoro possa andare avanti sono passati 29 anni e le emissari del Rebbe sono diventate di più e di più e di più e di più oggi abbiamo quasi 6.000 famiglie nel mondo anche se sono 29 anni ormai che il Rebbe non sta mandando ma le giovani coppie vanno da soli in missione del Rebbe perché il Rebbe ha coltivato dentro di noi l'amore per il prossimo l'amore per l'ebraismo e io chiedo a tutti voi che mi state ascoltando diventate anche voi parte in questa grande opera l'ugimilante del Rebbe aiutate chi vi sta accanto portate una zuppa calda una telefonata invitate Shabbat a casa vostra invitate le persone al Tempio connettetele con qualche rabbino vicino a voi chiamatele giovedì sera a sentire la lezione qualsiasi cosa emaniamo questo ossigeno della Torah e facciamo in modo che sempre più sempre più persone ebrei e non possono arrivare sotto le ali di Hashem finché possiamo vedere la grande luce di Hashem tramite la rivelazione di Mashiach presto ai nostri giorni Amen Kenya Irazon chiedo a tutti i cortesimenti di condividere questa lezione e di aiutare altre persone ad avvicinarsi ad Hashem grazie a tutti per l'ascolto sigla Shabbat Shalom a tutti